E ciao a tutti amici, questo qua è un velocissimo video per farvi sapere che oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 sarò in live su Twitch Qua sotto in descrizione trovate il link per il canale, mi raccomando non mancate E giocheremo principalmente a Space Engineers e Rocket League un'ora e un'ora Quindi noi ci vediamo su Twitch, a tra poco veramente perché ci siamo quasi Quindi a dopo, ciao!